Buonasera, volevo parlare del DPCM ultimo sul Green Pass. Ancora non abbiamo il documento cartaceo, ma leggendo il comunicato del Consiglio dei Ministri numero 30 non parla da nessuna parte di è vietato o è fatto di vieto. Eccolo qua, comunicato stampa numero 30, Green Pass, sarà possibile svolgere alcune attività solo in possesso di certificazione verde Covid, effettuazione di un test molecolare antigenico, tampone e basta, non parla, ti divieti o è vietato. Non ne parla. Il governo si è ben guardato di mettersi a riparo da azioni penali da parte dei cittadini italiani. Non vi fate abbindolare. Non abbiate paura. Ciao, a presto.